Questo è l'ultimo appuntamento per il 2015 con la nostra rubrica settimanale in dialogo con l'Europa. Voglio cogliere innanzitutto l'occasione per augurare a tutti voi un buon Natale e un felice anno nuovo. Ne abbiamo tutti bisogno come ne ha bisogno la nostra Europa. Europa che sta affrontando un momento difficile, che dovrà presto trovare l'energia, la spinta politica per uscire dal guado e tornare ad essere come noi la vogliamo, un luogo di speranza che si apre al futuro. Intanto una buona notizia. Qualche giorno fa è stato siglato a Parigi l'accordo finale della conferenza sul clima COP21. È un buon accordo, è un buon punto di partenza, soprattutto perché per la prima volta l'accordo è stato sottoscritto, firmato all'unanimità da tutti i paesi, 195 paesi presenti, compresi Stati Uniti, India e Cina, i tre paesi che emettono più CO2 a livello mondiale. Tre sono sostanzialmente gli impegni principali che il documento di Parigi contiene. Innanzitutto mantenere la temperatura al di sotto, l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto al 1990. Poi un fondo verde per il clima, quindi oltre le idee anche le risorse, 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi in via di sviluppo per finanziare una crescita ecologicamente sostenibile. Verificare infine in maniera sistematica i progressi e il rispetto degli impegni compiuti ogni 5 anni. Il Parlamento europeo ha giocato un ruolo fondamentale in questo accordo e l'Europa è all'avanguardia su questo tema con i suoi ambiziosi obiettivi per i prossimi anni. Ridurre il primo le emissioni di gas a effetto serra del 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Incrementare la quota delle energie rinnovabili fino al 45% del mix energetico europeo. Ottenere e lavorare sul risparmio energetico del 40%. Personalmente sto lavorando su un documento di cui sono relatore per la Commissione Ambiente dal titolo Promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella gestione futura delle imprese agricole dell'Unione Europea. Un documento che parte da una sfida ambiziosa, quella di Milano, dell'Expo di Milano, nutrire il pianeta, che mette al centro il ruolo, la funzione dell'agricoltura che è quello di produrre innanzitutto cibo sano e sufficiente per tutti. Siamo infatti in un contesto mondiale che vede la popolazione crescere e la sfida è quella di garantire a tutti quindi una giusta quantità di cibo preservando nel contempo il nostro ecosistema, l'ambiente e le risorse per le generazioni future. Dobbiamo produrre di più ma in modo diverso riducendo l'utilizzo di acqua, energie, fertilizzanti e pesticidi. Dobbiamo puntare sull'innovazione, la formazione professionale, il ricambio generazionale, puntare sui giovani anche in agricoltura. È importante favorire lo scambio di buone pratiche, il trasferimento dei risultati della ricerca tecnologica anche alle piccole e medie imprese. L'agricoltura europea è fatta di piccole e medie imprese e spesso queste piccole imprese sono fuori dai circuiti delle innovazioni. È fondamentale inoltre lavorare per adattare le attuali pratiche agricole di gestione ai cambiamenti climatici che si stima potrebbero provocare nei prossimi anni milioni addirittura di profughi climatici. Infine credo sia molto importante sottolineare e far conoscere una proposta di regolamento che la Commissione europea ha presentata in questi giorni sul mercato unico digitale contro il geoblocking. Infatti nonostante il trattato di Sengel che ha aperto i confini, la libera circolazione in Europa, merci, persone, capitali, servizi e consente a tutti di muoversi liberamente all'interno dell'Europa, quando si parla di digitale esistono ancora dei confini fra gli Stati. Sono dei confini invisibili ma che condizionano la nostra vita quotidiana e il commercio. Due le proposte di modifico, la prima riguarda la regolamentazione del commercio elettronico trasfrontaliero, la seconda la cosiddetta portabilità del diritto d'autore. Nel primo caso si calcola che il 15% dei cittadini europei abbiano effettuato almeno un acquisto online nel 2014. Nonostante questo ancora oggi ogni Stato ha la propria regolamentazione e ci sono 28 regole diverse che generano confusione, bloccano acquisti. Per questo la Commissione ha presentato una proposta per armonizzare il mercato degli acquisti su internet e aumentare la potenzialità del commercio e la fiducia dei consumatori. Eliminando il geoblocking sarà possibile inoltre poter utilizzare i propri servizi online in qualsiasi paese, vedere europeo, vedere film, sport e contenuti digitali quali sia abbonati nel proprio paese di residenza. Vi ricordo che su tutte queste altre iniziative trovate maggiori informazioni sul mio sito internet www.damianosofoli.it. Vi auguro ancora di cuore un buon Natale e un felice 2020.